mi scusi una domanda sta andando in vacanza no vacanze no io vado all'annual conference mi scusi sta aspettando il passaggio della prossima cometa no sto aspettando l'annual conference di novembre vedo che lei è in dolce tisa no sto aspettando l'annual conference aspetti me no aspettando l'annual conference a 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